Tutti gridavano a Fileppo Argenti, e il fiorentino spirito bizzarro in sé medesmo si volvea codenti. Prima di giungere ai piedi dell'alta torre, Dante ha visto nel buio profondo due segnali luminosi ad intermittenza provenire dalla sommità di questa torre, posta a guardia della palude, ai quali da lontano ne rispondeva un altro. Mentre chiede a Virgilio spiegazioni, ecco arrivare veloce su una barca il traghettatore dell'ostige, il demonio Flejas, tra il fumo che sale dalla palude fangosa, gridando parole di ira verso Dante, credendolo un dannato. Virgilio ordina al custode infernale di portarli sull'altra sponda. Saliti sulla barca, dopo poco si avvicina un dannato avvolto dal fango, che si rivolge a Dante con feroce aggressività e violenza, chiedendo chi sia a venire lì prima della sua ora. Dante riconosce in lui Filippo Argenti, persona orgogliosa e arrogante della famiglia fiorentina degli Adimari, soprannominato Argenti, perché per boriosa vanità aveva fatto ferrare d'argento il suo cavallo. Dante lo maledice, l'anima dannata, stizzita e accecata dall'ira, tenta di rovesciare la barca, ma è respinto da Virgilio. Il poeta latino, approvando lo sdegno di Dante verso l'arroganza del dannato, lo abbraccia e bacia lodandolo. Dopo poco si vedono dei dannati, irriconoscibili per il fango, gettarsi addosso a Filippo Argenti, per farne scempio. Intanto la barca si avvicina sempre più alla città di Dite, circondata da fossati e difesa da torri infuocate. Giunto all'ingresso della città, Dante si trova davanti a uno scenario terrificante. Una folla di demoni impedisce l'entrata ai due poeti. Tutte le porte si chiudono. I demoni accettano di parlare solo con Virgilio. Il poeta latino conforta Dante, rassicurandolo sull'imminente aiuto divino. L'arrivo di un messo celeste che farà aprire la città. Nel 1900 il comune di Firenze decise di far collocare nelle vie e nelle piazze della città 33 lapidi per ricordare luoghi, personaggi ed episodi citati da Dante nel suo poema. Per questa iniziativa fu istituita un'apposita commissione di esperti, di cui tra l'altro facevano parte Isidoro del Lungo, Pietro Torrigiani, Giuseppe Lando Passerini e Guido Carocci. Le lapidi dantesche di Firenze furono collocate nel 1907. La prima di queste lapidi, in ordine allo scorrere della Divina Commedia, riguarda l'ottavo canto e fa riferimento a Filippo Argenti. L'epigrafe è posta in via del corso, sulla facciata della casa segnata dal numero civico 18, dove pare si trovasse il palazzo in cui abitava. Questo personaggio, soprannominato Argenti perché, secondo una nota nel codice Cassinense, ecum ferris argenti, Ferrari fecit, apparteneva al ramo dei cavicciuoli della famiglia di Mari, schierato nei guelfi neri e acerrimo nemico personale di Dante. Viene quindi trattato con estremo disprezzo e perfino maledetto dal sommo poeta, anche perché suo fratello, Boccaccino a Di Mari dei Cavicciuoli, secondo benvenuto da Imola, si appropriò di alcuni beni di Dante dopo la sua condanna all'esilio e sempre si oppose al rientro dell'esule a Firenze. Io dico, seguitando, cassai prima che noi fossimo al piede l'alta torre, gli occhi nostri n'andar suso alla cima, per due fiammette che i vedemmo porre, e un'altra da lungi render cenno, tanto capena il potea l'occhio torre, e io mi volsi al mar di tutto il senno, dissi questo che dice, e che risponde quell'altro fuoco, e chi son quei che il fenno? Ed egli a me, su per ressucide onde, già scorgere puoi quello che s'aspetta se il fumo del pantan non ti nasconde. Corda non pinse mai, da sessa etta, che si corresse via per l'aere snella, come ovì di una nave piccioletta, venir per l'acqua verso noi in quella, sotto il governo d'un sol galeoto, che gridava, orse giunta, anima fella, fleggiass, fleggiass, tu gridi a voto, disse lo mio signore, a questa volta, più non ci avrai che sol passando il loto. Qual'è colui che grande inganno ascolta che gli sia fatto, e poi se ne rammarca, fece si fleggiass, nell'ira colta? Lo duca mio discese nella barca, e poi mi fece entrare appresso lui, e sol quando io fui dentro, parve carca. Tosto che il duca e io nel legno fui, segando se ne va l'antica prora dell'acqua, più che non suol con altrui. Mentre noi corravan la morta gora, dinanzi mi si fece un pien di fango, e disse, chi sei tu che vieni anziora, e io a lui, si vegno non rimango, ma tu chissè che si sei fatto brutto, rispose, vedi che son un che piango, e io a lui, con piangere con lutto, spirito maladetto, ti rimani, chi ti conosco, ancor si è lordo tutto. All'ordi stesa al legno ambo le mani, perché il maestro accorto lo sospinse, dicendo, via costà, con gli altri cani. Lo collo poi, con le braccia mi cinse, baciòmi il volto e disse, alma sdegnosa, benedetta colei che in te si incinse. Quei fu al mondo persona orgogliosa, bontà non è che sua memoria fregi, così sei l'ombra sua qui furiosa, quanti si tegnon or lassù, gran regi, che qui staranno come porci imbrago, di sé lasciando orribili dispregi. E io, maestro, molto sarei vago di vederlo attuffare in questa broda prima che noi uscissimo del lago, ed egli a me, avante che la proda ti si lasci veder, tu sarai sazio, di tal disio convien che tu goda. Dopo ciò poco vi dio quello strazio, farvi costui alle fangose genti. Che Dio ancor ne lodo e ne ringrazio, tutti gridavano a fileppo argenti, e il fiorentino spirito bizzarro, in sé medesmo, si volvea codenti. Qui vi lasciamo che più non ne narro. Ma nell'orecchie mi percosse un duolo, per chi ho avante l'occhio intento sbarro. Lo buon maestro disse, omai, figliuolo, s'appressa la città, che a nome dite, coi gravi cittadini, col grande stuolo, e io, maestro, già le sue meschite la entro certe nella valle cerno, vermiglie come se di fuoco uscite fossero. Ed ei mi disse, il fuoco eterno che entro la foca le dimostra rosse, come tu vedi in questo basso inferno. Noi pur giugnemmo dentro all'alte fosse, che vallan quella terra sconsolata, le mura mi parean, che ferro fosse. Non sans saprima far grande aggirata, venimmo in parte, dove il nocchier forte, usciteci, gridò, qui è l'intrata. Io vidi più di mille, in su le porte da ciel piovuti, che stizzosamente dicean, chi è costui che sansa morte va per lo regno della morta gente? E il savio mio maestro fece segno di voler lor parlar segretamente. Allor chiusero un poco il gran disdegno e disse, vien tu solo, e quei se invada, che si ardito entrò per questo regno, sol si ritorni per la folle strada, provi se sa, che tu qui rimarrai, che gli hai scorta, si buia con trada. Pensa, lettor, se io mi sconfortai nel suon delle parole maladette, che non credetti ritornarci mai. O caro duca mio, che più di sette volte mai sicurtà, renduta e tratto, d'alto periglio che incontra mistette, non mi lasciar, dissi io, così disfatto, e se il passar più oltre ci è negato, ritrovian lor me nostre insieme, ratto, e quel signor che lì m'avea menato mi disse, non temer che il nostro passo non ci può torre alcun, da tal ne è dato. Ma qui m'attendi, e lo spirito lasso conforta, e ciba di speranza buona, che non ti lascerò nel mondo basso. Così sen va, e qui vi m'abbandona lo dolce padre, e io rimanio in forse, che sì e no nel capo mi tenciona. Udir non poti quello che a lor porse, ma e non stette là con essi guari, che ciascun dentro a prova si ricorse. Chiuser le porte, quei nostri avversari, nel petto al mio signor, che fuor rimase, e rivolsesi a me con passi rari. Gli occhi alla terra, e le ciglia avea rase, d'ogni ebaldanza, e dicea nei sospiri. Chi m'ha negate le dolenti case? E a me disse, tu, per ch'io ma diri, non sbigottir, ch'io vincerò la prova, qualca la difension dentro saggiri. Questa lor tracotanza non è nova, che già l'usaro a me in segreta porta, la qual, senza serrame, ancor si trova. Sovressa vedest tu la scritta morta, e già di qua da lei discende l'erta, passando per ricerchi, senza scorta, tal che per lui ne fia la terra aperta.